17 febbraio Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore. Deuteronomio 4,29 Un'esortazione e una promessa Ogni giorno si affaccia alla nostra vita con il suo carico di problemi ed incognite. Ecco perché dobbiamo imparare a cercare il Signore in ciascuno di essi. Nella Bibbia sono continui gli inviti a cercare il Signore. Ogni giorno deve diventare un'opportunità per avvicinarci a conui che può sostenerci. L'esortazione e la promessa del nostro testo non ci permettono in alcun modo di dubitare dell'utilità della ricerca di Dio. Esse sono rivolte per generare fede in ciascuno di noi. Lo cercherai e lo troverai. Un'esortazione e una promessa che diventano la nave per portarci a largo, lontano dagli scogli dello scoraggiamento e dalle paludi dell'incredulità. Un'esortazione e una promessa che devono diventare la nostra unica speranza nelle lotte della vita, a causa delle quali spesso ci siamo stancati e scoraggiati. A motivo delle parole che Dio ci rivolge, possiamo asciugare le nostre lacrime, guardare con speranza al futuro quando le tenebre vogliono sopraffarci e sopportare il più profondo dolore. Ancora oggi la voce di Dio giunge fino a noi invitandoci a piegare le nostre ginocchia, ricordandoci che il suo più grande desiderio è quello di operare in nostro favore. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti. Ancora oggi la voce di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio.